Oh ragazzi eccoci qui invece quest'oggi subito dopo insomma il video della tier list insomma che più che tier list comunque abbiamo visto un grafico che definisce comunque una tier list per la best of one ma quella più importante per noi per la torneistica eccetera eccetera è quella della best of three ovvero quella lì dove si utilizzerà comunque il side di 15 carte non il side infinito come ha definito insomma la konami che è veramente una roba imbarazzante ci basiamo sul gioco di yugioh normale dei tornei che si fanno normalmente best of three side di 15 carte e questa è la tier list che abbiamo definito in base comunque ai risultati di svariati tornei che ci sono stati in giro per il mondo è un po' anche basato sul secondo me che abbiamo visto comunque all'interno di master 2 appunto dei vari tornei eccetera eccetera la mia percezione anche della potenza di alcuni e molti mazzi per cui detto questo vabbè qui in giro troverete comunque il disclaimer per la tier list della best of one qualora voleste un deck che funzionasse meglio solamente nelle classificate normale qualora voi foste persone che non giocano tornei best of three eccetera eccetera e volete solamente giocare in ladder e trovate insomma qui il disclaimer per vedere il video della best of one e qui invece vediamo appunto la tier list della best of three e partiamo con praticamente qui in cima tribrigata sostanzialmente zodiac no comunque tutte le forme di tribrigata perché tutte le forme di tribrigata soprattutto in quella zodiac è il deck che domina appunto tra l'altro vi ricordo che la tier list come ho già detto poco fa ragazzi è basata su molti tornei che si sono visti in giro per il mondo e così via per cui tutte le versioni di tribrigata offrono appunto quella stabilità ma maggiormente quella versione zodiac la stessa cosa un po' per la best of one dove alla fine con una carta può fare veramente delle grosse board e ha appunto tutte le counter che del dovuto insomma del caso no e con la side la stessa identica cosa cioè va a togliere carte che non sono utili contro certe persone chi e va ad aggiungere le altre utili e sempre comunque one card combo più side contro gli altri deck che si ritroverà contro eh drytron invece lo troviamo sempre in tier 1 la sua percentuale non è così preponderante come lo invece è quella di tribrigata è inferiore comunque a quello della best of one perché comunque con l'utilizzo della side molta gente può buttare giù drytron più facilmente grazie ai kaiju goccioline e dark ruler no more lava golem e tante altre carte no però drytron rimane comunque sempre con eva uno dei deck più forti per cui in tutte e per tutto insieme a tribrigata secondo me si merita ma anche in base ai risultati si merita appunto la posizione del t1 t1 assoluto insieme a tribrigata subito sotto vediamo in t2 vediamo ad emancipato virtual world prank it thunder dragon zo puro e phantom knight perché questi si trovano in t2 e non in t3 mentre perché t3 non si trovano in t2 è semplicemente perché ad emancipato ragazzi è un deck fortissimo utilizza block dragon che all'interno di master duel è in t3 per pertanto insieme anche al guardiano qualche meru che può impedire dell'end trap come lo possono essere l'hash di turno o il max c di turno impedendo all'avversario di pescare un milione di carte ad emancipato crea una loc che adibita appunto al bar e lo savage dragon con anche dragheet e union carrier che mette eventualmente anche il dragon buster che impedisce all'avversario di evocare dall'extra deck creando insomma una loc nella quale l'avversario è impossibilitato a ritrovarsi comunque ad evocare roba e fare roba insomma praticamente fargli saltare praticamente boom tutto il turno e subito dopo troviamo virtual world che con verore di tutte le calamità fa saltare tu un avversario shansha e come appunto abbiamo discusso nel best of one virtual world rimane un deck solidissimo tuttora anche nel tcg nel cartace rimane comunque un deck nonostante nuove carte che dice la sua come in real non è top meta però lo vediamo stabile nella tier 2 perché comunque shansha e verore di tutte le calamità che in real non c'è comunque creano comunque la pressione crea la pressione che gli basta per poter vincere i duelli subito dopo troviamo prankiz per il fatto che comunque col gattino e grazie al battler che vediamo qui raffigurato possa fare comunque doppio rai jeky quando voglia perché il gattino appunto se dovessimo tributare lui il gattino si rimuove per pagarne diciamo il costo di tributo di battler per fare rai jeky dopodiché potremmo riattivare di nuovo battler per fare un altro rai jeky sempre un deck che comunque sfrutta benissimo l'hand trap grazie al fatto grazie sempre al link 1 che one card combo riesce a fare delle belle giocate subito dopo troviamo invece thunder dragon thunder dragon nonostante abbia colosso 1 che è il perno del mazzo oak a 1 e roar a 2 all'interno di master 2 lo vediamo comunque a mio parere molto performante ma anche per mia esperienza personale ha veramente veramente tantissime giocate riesce a uscirsene da situazioni veramente assurde titano colosso si riciclano in infinito e colosso ragazzi rimane comunque una e lo sapete bene una delle carte più forti assolute di tutto il gioco blocca le tanki blocca per dire clot di phantom knight può bloccare eh le aggiunte di lulu e di della magia al cimitero quando viene rimossa riesce a bloccare block dragon riesce a bloccare eh le altre carte tributate come nervale eccetera blocca praticamente tutto drytron per cui ragazzi colosso è una di quelle carte che sta e sono stabili sono forte colosso oltretutto riesce a pararsi anche da distruzione bandendo dal cimitero all'infinito mostri tuono finché può e titano stessa cosa poi oltretutto titano è un bel ciccione a 3200 per cui nulla da dire secondo me soprattutto nella versione comunque caos con i draghetti eccetera eccetera con cui ha quella giocata addizionale in più per poter gestirsela bene converte cobra e così via no per avere appunto quella magia a fusione in addizione per fare un secondo titano zo puro invece going second mi suggeriscono zodiac rimane comunque all'interno di master 2 un deck forte dridenta 1 zeus a 1 pot per riciclare abbiamo le vespe nato se non mi ricordo male vespe nato che vanno sopra gli altri exisi per fare danni perforanti quando muore reborn a 1 e poi comunque zodiac lo conosciamo è un deck che con una carta fa combo e di conseguenza tutte le altre carte all'interno all'interno insomma tutte le carte all'interno del deck è in mano possono essere tutte benissimo delle counter delle carte che possono negare delle hand trap dei fulmini tempesta insomma chi più ne ha chi più ne metta insomma ultimo ma non ultimo assolutamente non sono in posizioni di potenza e phantom knight sempre rongo bongo alle sue combo ovviamente sprechina un pochetto qualcosa in più però comunque ragazzi phantom knight come in real rimane comunque un deck veramente veramente forte un deck che comunque una versatilità veramente incredibile rongo bongo fa quittare il game praticamente agli avversari essendoci esistendo solo una carta a memoria così che possa buttarlo giù assicurandosi comunque i match e pertanto lo vediamo come il nostro sesto mazzo da tier 2 scendendo vediamo tier 3 eldlich che scende a causa comunque del side deck a casa di tutti i team twister fulmini tempesta spolverini e tutte le milioni di counter del caso che ci possono essere per counter per counterare eldlich ovvio alla side per counterare la side avversario comunque altro per counterare mazzi più specifici però comunque veramente soffre insomma la stabilità di altri deck e il fatto che i deck quando sidano giocano appunto fulmini tempesta twin twister spolverini e così via così via così via subito dopo sempre ragazzi non è la posizione non definisce appunto la tier list non è posizionato in base alla potenza troviamo dino scrap in questo caso che con gli scrap col scrap raptor guadagna appunto una stabilità maggiore una giocata addizionale con mondo perduto tiranno i mane ed è la carta mostro main più potente del gioco secondo me mostro proprio da main deck più potente del gioco 3500 picchia tutti se sono in difesa li sbatte via infligge mille danni per ognuno entra a caso entra di pillola banna due ed entra nel turno di entrambi copre tutto potentissimo ha guadagnato appunto questa nuova combo con cui può partire a fare a pollusa bar or savage dragon tiranno mondo perduto tutto praticamente con una barra due carte può fare tutto questo è sì il potenziale di brick c'è proprio per questo motivo lo troviamo in tier 3 è anche abbastanza facilotto da bloccare a miscellano saura 3 rispetto al real per cui comunque le sue giocate le ha e lo vediamo comunque qui presente dragon link dragon link dragon link lo vediamo in tier 3 più che altro è in tier 3 perché allora io francamente non lo conosco tanto bene dragon link sono sincero non l'ho neanche mai provato però appunto la tier list ragazzi è basata anche sul sui grafici di molti tornei che si sono svolti nel mondo per questo motivo qui l'ho collocato in tier 3 perché penso che comunque dragon link sia un deck veramente versatile può dire sempre la sua veramente tanto da dire tanto da fare ovviamente ha un dispendio di energie di insomma di di carte da dover utilizzare per insomma fare la sua mega giga ultra iper combo un deck complicatissimo per cui è anche giocato abbastanza poco pertanto non me la sentivo di mettere nel rogue assolutamente salamangret salamangret qui lo vediamo invece con tutto libero tra ne gazzella 1 per cui oltre ad aver guadagnato la combo con access code talker non me la sento nemmeno a lui di metterlo in rogue ma nemmeno in t2 perché comunque la sua presenza è diminuita di molto appunto perché il meta si è potenziato notevolmente salamangret con la sua piccola ma nonostante efficace board si ritrova comunque in questa situazione da essere da meta sì ma non top meta come lo fu nel 2019 subito dopo troviamo endymion perché comunque il pendoli con electromite all'interno di questo gioco dicono la sua c'è astrograph oltretutto endymion è una carta pericolosissima insieme a jackal che nega mostri fa le sue giga ultra iperlock e pendolo ragazzi è sempre quel deck quando te lo ritrovi contro ti può causare veramente dei grossi problemi veramente può causare veramente dei gravissimi problemi e vi ritrovereste eventualmente in brutte anche situazioni subito dopo troviamo shadow dogmatica invoked qui li abbiamo un po' uniti ci sono entrambi sono qui piazzati qui così li troviamo in questo stato perché comunque sapete la one card combo come potete vedere anche i video guide introduttive eccetera una due card combo riesce a fare comunque delle ottime board sfrutta winda sfrutta meciaba il pacchetto invoked è comunque sempre molto forte nonostante sia attualmente stato superato comunque insomma dagli altri deck ma rimane comunque un pacchetto potentissimo se si parte a seconda c'è shadow fusion che fonde direttamente dal deck a scisma perché ha guadagnato scisma e insomma il pacchetto dogmatica che permette appunto con freudalis ecclesia mandare al cimitero up callone prendo scisma ed avere comunque una stabilità per poter applicare appunto winda quasi sempre insomma subito dopo come ultimo tier 3 ma non ultimo sempre troviamo sky striker che due engage due ancore un drone una cagari c'è kaiser colosseo in questo gioco ragazzi c'è kaiser colosseo che tripla triplo ricastro goblin tripla chicken game volendo per cui sky striker nonostante comunque tutte le power play che ci sono adesso tutte le power card che ci sono sky striker lo vedo solido in tier 3 lo vedo solido in tier 3 personalmente e detto questo possiamo procedere ai rogue che i rogue ragazzi voglio ricordare non sono deck scarsi non sono deck for fun sono tutti quei deck che hanno un potenziale da poter competere contro il metagame ok detto questo scusate giusto voglio ricordarvi che anche in tier 3 c'è dragon maid purtroppo nel grafico qui non ce l'abbiamo l'ho anche citato appunto sul discord c'è dragon maid in tier 3 perché comunque dragon maid con il drago 3500 fusione e tutta la sua versatilità del suo gioco comunque riesce a fare anche delle belle cose oggi su master 2 in ladder però lo vediamo un po meno presente rispetto magari un po all'inizio però comunque anche dragon maid è un deck che se la gioca benissimo nella tier 3 comunque e ritornando invece ai rogue vediamo altergeist deck sempre versatilissima multifaker a 1 combo con skill drain e protocollo eviti che infatti perché il protocollo impedisce che gli effetti attivati dei tuoi altergeist vengano negati di conseguenza puoi giocare combo skill drain protocollo e anche villaggio comunque faker rimane una carta comunque a 1 ma si può rigirare appunto con circuitas rimbalza rimbalza se attivo trappolo lo rievoco e un deck comunque rogue che dice sempre la sua e altamente anche consigliato perché vuole giocare un po trappoloso se vuole variare un po da el glitch e così via dopo vediamo a tignistar che se la cava molto bene con il mostro che viene rappresentato qui ragazzi che sarebbe il da rival a tignistar da rival il link 6 immune a tutto che può essere 6.000 immune a tutto ragazzi e qualora non ci fosse kaiju è veramente veramente quasi impossibile buttarlo giù poterlo buttare giù subito dopo troviamo pendulum magician sempre per la questione comunque di endymion la storia la solve è più o meno simile però ha meno versatilità rispetto ad endymion proprio per questione sempre di stability eccetera eccetera endymion lo reputo più forte pertanto magician lo reputo comunque un altro rogue diciamo subito dopo vediamo infernobel knight non lo conosco tanto bene però giudicare appunto dalla torneistica che abbiamo notato eccetera eccetera infernobel knight non riesce a imporsi così troppo comunque la sua combo che gli permette appunto di essere versatile al punto giusto subito dopo vediamo magi dolce ha anche questo tech qui ha la sua combo alcuni lo mischiano con qualche carta da emancipator e riesce comunque a fare la sua un locchino no subito dopo vediamo cyberso che fa doppio access quadro talker soffre moltissimo max c ma comunque riesce comunque col suo spam appunto access quadro talker a fare un minimo del lavoro che richiede appunto per procedere eventualmente a quella che può essere una vittoria fluffal fluffal ha guadagnato invece la balena che se parte primo gli può permettere di partire di vero re di tutte le calamità è un deck prettamente going second chi gioca fluffal deve partire secondo ma qualora l'avversario lo facesse partire per primo può sfruttare appunto alla doppia balena per fare vero re di tutte le calamità e questo deve essere chiaro molto chiaro perché diciamo è la sua start ad ogni modo fluffal è un deck ottica apposo da far paura subito dopo abbiamo ddd che con le nuove carte che usciranno comunque in master 2 come uscito in real guadagnerà sicuramente una posizione nella tier list ddd è un deck ragazzi che la sua versatilità è veramente allucinante ogni tipo di summon giocato alla massima potenza è il deck perfetto perché sfrutta ogni tipo di summon alla perfezione mostri giganteschi kylie yuga ne fa da padrone insomma e più che altro la sua potenza è basata anche molto sul fatto che l'avversario non sa cosa bloccare non sa cosa counterare perché ha talmente tante possibilità questo deck che lo ritroviamo qui tranquillamente subito dopo vediamo invece cyber drago lo giochiamo in live lo avete potuto vedere insomma se seguite twitch cyber drago l'avevo messo nei for fan all'epoca appunto nelle best of one e best of three però rigiocandolo abbiamo notato che comunque le sue possibilità le ha ha un grosso potenziale di brick sì ma grazie a megafleet grazie un po infiniti a qualcosina rimane con poche carte in mano no perché comunque fa fatica regge male fa fatica comunque ma col side deck comunque oltretutto grazie a megafleet che mi ha rete con la quale potrà andare ad affrontare benissimo anche appunto deck top tier se la può cavare è divertente giocare lo ciaverte cobra può mandare fusione sovraccarico può ticappare veramente in modi ignoranti per cui lo abbiamo qui ben presente subito dopo vediamo hero che fa delle ottime board ha delle carte fortissime però dark lo a parte gli manca quel negate gli manca quel negate come invece hanno altri deck che manca quel negate che può fare tranquillamente per andare a bloccare l'avversario ha le sue combo sì perché può partire absolute zero mask change l'avversario magari setta evoca qualche mostro fa mask change via absolute zero dentro acid fa spolverino regge in un colpo e buonanotte più dark lo che comunque fa da macrocosmo qualora l'avversario cercasse di aggiungere del deck alla mano bandisce comunque dark lo in campo contro anche un drytron contro anche un tre brigata comunque è molto forte per cui rogue tutta la vita gremmaggio deck ignorantissimo kai giulava golem pot banno qualcosina gremmaggio 12.000 attacco picchio credo che più di così non serva dire troviamo poi true draco true draco un deck veramente cheap facilissimo da fare e non è per nulla costoso e lo vediamo qui perché comunque ha tutte quelle trappole ragazzi tutte le floodgate veramente fastidiosi se le vede al momento giusto ragazzi è veramente una rottura di cazzo comunque conoscete true draco che anzi gli ex giocatori true draco probabilmente giocheranno eldlitch adesso ogdodiaco deck comunque rettile che insomma con alcune carte non ho molta esperienza di questo mazzo ci ho giocato contro qualche piccola volta però il re e la regina creano una locchina che non è niente male sia chiaro subito dopo necros necros ha perso molto rispetto ai sei tempi d'ore praticamente tutto sbannato ma ha perso molto non per mancarsi di digilock ma proprio per tutte quelle counter che escono che sono nate che sono uscite eccetera perso molto per questo sì c'ha gli ipcantesimi ha tre preparazioni dei riti ha riguadagnato qualcosa però oggigiorno è un deck con una meccanica che è facilmente counterabile subito dopo vediamo paleozoic insieme a trap tricks run eccetera eccetera e sub terror che sono tutti dei rock deck trappolosi blocchini roba che comunque riesce a rubare anche eventualmente delle partite colpendo nei punti giusti e vedendo appunto le trappole giuste sei samurai l'abbiamo piazzato qui sei samurai perché c'è una giga combo con rongo bongo da 7-8 materiale una roba veramente ragazzi allucinante una roba assurda e con la comba appunto col portale dei sei samurai perché c'è il portale dei sei samurai il link 2 che una montagna di segnalini overcombo qualora l'avversario non avesse max c o hash o qualcosa comunque che permetta appunto di bloccare questa combo ci ritroveremmo appunto contro un rongo bongo da 7-8 materiali che resistere poi x mila turni con anche shen poi oltretutto rongo bongo shen e altra roba che veramente allucinante l'ex season core che andrebbe a bloccare andrebbe a eliminare rongo bongo verrebbe negata appunto anche da shen perché shen una volta turni nega magie trappole subito dopo vediamo spyran invece lo suo combo ce l'ha ha drone a 1 mi sembro pure il otacon a 1 non mi ricordo quale di preciso fa sempre le sue porcherie comunque double elix a 3 fa sempre le sue porcherie del dovuto lo vediamo comunque qui in rogue subito dopo vediamo appunto ah giusto non lo vedete a breve perché abbiamo il bannerino vediamo appunto burning abyss burning abyss è in rogue semplicemente perché la sua versione migliore più forte più capace più performante la vediamo reincarnata in phantom knight assolutamente comunque un deck che dice sempre la sua beatrice ai dante fa sempre le sue sporche figure tutto praticamente sbannato per cui lo vediamo comodamente secondo me come deck rogue non si merita sicuramente il posto nei for fun subito dopo vediamo invece i danger perché i danger hanno fanno crashare l'avversario soprattutto se l'avversario fa max c perché se fa max c il deck è un dark world danger sostanzialmente fa special all'infinito giare dell'avarizia ritorna nel deck sapete i danger si evocano pescano si evocano pescano vanno a cercare praticamente usano tutto il deck fino ad arrivare anche eventualmente a distruggi carte qualora l'avversario faccia max c riesce a fare board quasi ribaltabile quasi ovviamente e comunque con questo distruggi carte qualora l'avversario attivasse max c fa perdere l'avversario per deck out semplicemente l'abbiamo visto svariate volte all'interno comunque anche del gioco dopodiché vediamo appunto e mcknight invoked mcknight comunque sempre base invoked molto stabile mcknight è un altro engine comunque molto stabile che dice sempre la sua sono carte che funzionano praticamente da sole riesce a rubarsi delle partite se conoscete i mcknight e vabbè l'invoca e lo conosciamo sapete bene di che cosa parlo ha una sua stabilità con l'hand trap e così via riesce a rubare parecchie partite nei rogue invece vediamo numero network sempre la best of three numero network perché può fregarti in best of one in best of three rimane comunque forte perché è sempre un one card combo però deve vedere comunque la terreno no non sempre si vede la terreno non c'è magari possibilità di vedere però un deck che comunque ha i kaiju ha tutta quella roba lì che leva tutta la roba che dà fastidio in campo tutte le lock riesce comunque ad eliminare tutto quello ma se non vede la terreno comunque non vede la terreno comunque subisce la side avversaria si ritrova comunque veramente veramente spaisato anche per il fatto che hanno bannato utopic zex al tempo fa per cui è bannato anche all'interno del gioco infernoid invece è un deck ragazzi che in base al metagame sale scende sale scende sale scende sale scende in questo caso qui è sceso un deck che dà sempre fastidio void fist porta dal deck svariati infernoid che tra cui deviati i decatron che fanno da deviati fanno da onuncu per negare quello che vuoi oppure comunque millare con erba perché c'è erba del vicino e sempre più verde all'interno di questo gioco con sacrificio al braccio sinistro non mi ricordo come si chiama la magia che va ad aggiungere una magia che tu vuoi bandendo la tua mano appunto erba del vicino e sempre più verde e infernoid crea veramente grossi grossi problemi qualora giocaste magari un deck che lo soffre magari come phantom knight o comunque altri deck e subito dopo invece ultimo ma non ultimo troviamo raid raptor che con le carte nuove riesce a fare delle lock veramente impressionanti ovviamente è un deck che deve partire c'ha le sue rank up a force streaks carta fortissima e è un deck anche abbastanza costoso oltretutto raid raptor fa le sue lock non vi so dire adesso specificatamente quale ma l'abbiamo affrontato veramente svariate volte è un deck che comunque dice la sua appunto come rogue deck come tutti i rogue deck ragazzi per cui non è una classifica questa qui ma è semplicemente una definizione quelli che sono i deck più forti più stabili più performanti che abbiamo visto all'interno comunque di svariati tornei in giro per il mondo un po' come il video della best of one ripeto e questa pertanto è la tier list qui ricordo che c'è dragonzella in tier 3 e queste tier list ragazzi di questi video trovate tier list e deck all'interno del nostro discord che vengono man mano aggiornate così via così via così via le trovate qui sotto in descrizione ragazzi detto questo spero che insomma il video vi sia piaciuto sia stato abbastanza chiaro ho cercato comunque di spingere di essere il più rapido possibile nel spiegare insomma oddio nel spiegare insomma un pochetto il motivo per cui i deck si ritrovano insomma in queste in queste categorie il T0 non c'è perché dovrebbe occupare il 65% del metagame e non c'è ripeto e detto questo ragazzi aspettiamo insomma che il meta si evolva con le nuove carte con la nuova ballista eccetera eccetera all'interno di Master Duel io vi invito a lasciare un like ragazzi al video vi ringrazio per aver visionato tutto ciò qualora aveste bisogno abbiamo il discord novità ragazzi sul telegram per selezionare anche ovviamente il nel sondaggio scegliere il deck dei prossimi delle prossime video guide introduttive i deck che facciamo comunque qui all'interno di youtube vi aspetto su discord vi aspetto in live e alla prossima ragazzi vi aspetto in live